L'aggregazione e la filiera sono l'unico modo per poter competere sui mercati. I pastai predicano tutti lo stesso vocabolario, a importare importiamo, e Granoro si spinge ad ammettere che non arrivano solo le quantità che mancano per coprire il fabbisogno, ma anche grano di qualità che costa molto di più perché in molte annate quello italiano non è idoneo alla produzione di pasta di qualità. Il pastificio di Corato, che ha lanciato una linea 100% pugliese, rivendica la primogenitura dei contratti di filiera. Come stanno andando i contratti di filiera qui in Puglia? I contratti di filiera stanno andando molto bene. Noi abbiamo iniziato questo progetto in tempi non sospetti, mi piace dire, perché oggi si fa un gran parlare di filiere, però Granoro ha iniziato questo progetto nel 2010, ha lavorato a stretto gomito con il centro ricerche di Foggia, ha iniziato a progettare determinate coltivazioni con l'afracoltivatore di Apricena e poi nel 2012 è venuta fuori con un prodotto tutto suo, un prodotto di filiera con un nome e un cognome. A noi piace dire che pasta Granoro non è di Granoro, pasta Granoro dedicato non è solo di Granoro, ma pasta Granoro dedicato è il prodotto che viene fuori dal lavoro dell'agricoltore del tavoliere. Quantificando in Puglia a quanti contratti di filiera siete, quali sono le quantità? Allora noi siamo a un contratto di filiera unico perché preferiamo che il contratto di filiera nella parte agricola si è gestito da una cooperativa, la cooperativa fraccoltivatore di Apricena, che è una delle cooperative più grosse e più rappresentative del territorio pugliese, però dietro la fraccoltivatore di Apricena sono aggregati nel nostro progetto circa 140 agricoltori. Siamo partiti da 25, adesso sono 140, quindi c'è stato un bel balzo in avanti. Le quantità erano appena 20.000 quintali il primo anno, oggi possiamo dire di averle quintuplicate. Non abbiamo convertito chiaramente tutta la produzione Granoro a Granoro dedicato, quindi a Grano 100% Puglia, però il percorso è quello. Siete pronti quindi ad aprire a nuovi accordi? Siamo pronti sì ad aprire a nuovi accordi, però vogliamo che la sensibilizzazione a questi temi sia abbastanza diffusa, ovvero noi abbiamo messo in piedi questo progetto, abbiamo aggregato parte agricola, prima trasformazione perché noi non abbiamo un molino, prima trasformazione, molino di vita, la seconda trasformazione della pasta, vorremmo che in questo progetto entri a pieno titolo anche la grande distribuzione, perché la grande distribuzione ci deve dare una mano, se vogliamo che la sostenibilità sia agricola, sia completa, anche la grande distribuzione dovrebbe darci una mano e perché no il consumatore? Il consumatore deve capire che consumando un pacco di pasta ottenuto dal proprio grano, dal grano del proprio territorio, innesca un circolo virtuoso di cui beneficia tutto il territorio. E quindi chiaramente potremmo aggregarne tanti altri. Allora mettiamola così, se i consumatori comprassero sempre più dedicato, quanto la granuoro sarebbe disposta a pagare il grano ai produttori? La granuoro non è che sarebbe disposta a pagare, adesso noi ragioniamo in questi termini, l'abbiamo condiviso direttamente con loro nel nostro progetto. Qual è il prezzo minimo? Il prezzo minimo sotto il quale loro non possono andare, no? Partiamo da quello. Poi se chiaramente riescono a fare qualità in termini proteici, perché chiaramente sono delle specifiche utili alla pastificazione, se loro riescono a fare più qualità hanno delle premialità. Oggi qual è il prezzo minimo? Oggi il prezzo minimo che noi garantiamo è 26 euro. Sappiamo benissimo i prezzi quali sono e quindi... Al convegno dal grano alla pasta che ha aperto la quarta edizione di Libando, il Centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia ha illustrato i progressi in campo scientifico, alla ricerca della pasta perfetta. Nei laboratori si torna alle origini, stanno studiando i progenitori del frumento, i farri selvatici, perché tante varietà antiche contengono le qualità per comporre la varietà del futuro.